Capita molto di rado che il secondo episodio di un fortunato film sia migliore del primo. In questo caso è proprio il numero due a essere più fedele all'antico spirito della serie televisiva omonima. Sebbene sotto una coltre di effetti speciali spesso fine a se stessi, questa volta l'ironia anticonvenzionale della «mostruosa» famiglia riesce a emergere.